Oggi mercoledì 21 giugno una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ha colpito la zona di Foggia e la costa Garganica in Puglia, suscitando una chiara percezione da parte della popolazione in diverse regioni del centro e sud Italia. Secondo le valutazioni condotte dall'Ostituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro del sisma si è verificato nel mare Adriatico di fronte alle coste di Rodi Garganico in provincia di Foggia. A largo delle isole Tremiti a una profondità approssimativa di 35 chilometri, l'evento sismico è stato rilevato dai sismografi della Sala Sismica INGV Roma nel pomeriggio di oggi alle 17.33. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha fornito ulteriori informazioni riguardo alla natura del terremoto, evidenziando che si è verificato in mare. L'impatto della scossa è stata avvertita dalla popolazione, testimoniando l'effetto della forza sismica nell'area interessata.